Non solo la polemica sul nome, ora ci si emette anche quella sulle poltroni. Un cammino non facile che dovrà condurre alla nuova Pescara. Via gli amendamenti per cambiare lo statuto della nuova Pescara con 150 politici e tagliare le poltrone in paglio per consiglieri e assessori. Ieri in municipio è cominciato l'esame delle proposte per ridurre rappresentanti gli organi del Comune Unico. La Commissione Comunale Statuto guidata dal consigliere Claudio Croce di Forza Italia si è riunita anche oggi, domani e venerdì a Palazzo di Città a Pescara per confezionare una serie di proposte da portare all'assemblea del 4 settembre prossimo. Intanto Masci va all'attacco di Trulli e De Martini se gli omologhi di Spoltore e Montesilvano chiedendo l'Unione Servia ad abbattere le spese. Come sapete entro il 30 luglio doveva essere presentata la bozza di statuto che è stata presentata dalla Commissione Statuto presiduta da fidanza e all'interno di questa bozza di statuto ci sono alcune questioni che noi non condividiamo. Io non le condivido personalmente ma la mia idea è condivisa da molti consiglieri del Comune di Pescara probabilmente da tutti e in modo particolare noi siamo contrari a un così elevato numero di consiglieri municipali che in questo momento è stato indicato nel numero di 24 per i municipi più grandi quindi quello di Montesilvano e i due municipi di Pescara Nord e Pescara Sud mentre sono stati indicati 16 consiglieri municipali per il municipio di Spoltore. Noi riteniamo che siano troppi, inutili perché riteniamo che le funzioni e le deleghe che avranno i municipi dovranno essere gestite in maniera snella e un così numero elevato di consiglieri municipali potrebbe semplicemente creare intoppi burocratici anche. Insomma, a quanto pare, troppi ritenuti da Pescara ma non da Montesilvano e Spoltore. Nel momento in cui si è votata questa bozza di statuto davanti nella Commissione presuta da fidanza i consiglieri di Spoltore e Montesilvano hanno voluto inserire questi numeri e hanno inserito anche la giunta municipale formata da almeno quattro assessori e queste questioni non erano state assolutamente condivise e concordate con noi consiglieri di Pescara tant'è vero che in quell'occasione tutti i consiglieri di Pescara non hanno votato questa bozza di statuto. Adesso, come ormai è notato a tutti, il 4 settembre è stata convocata l'Assemblea Costitutiva che vedrà coinvolti tutti i consiglieri di tutti e tre i comuni dove si dovrà votare e approvare questa bozza di statuto e in quell'occasione noi abbiamo la possibilità di presentare degli emendamenti. Il documento va approvato entro il 30 settembre altrimenti la nuova Pescara potrebbe scattare già dal 2024 senza rinvio al 2027.